Non tocco il microfono perché mi ha da far segno che nonostante le raccomandazioni l'ho toccato, respiro regolare, incazzatura media, respiro buono, non è complesso. Allora andiamo avanti, oggi notizie dei giornali, bello, le fusioni dei comuni, siamo passati a 155 da 200 erotti, i nuovi consigli comunali, tutto un gran parlare, però, momento, il comune di Monclassico si è fuso col comune di Dimaro, è diventato comune, ma le caserme dei pompieri, quella di Monclassico e quella di Dimaro rimangono due, perché non si può alfondare i pompieri, perché i pompieri sono fonte di voti, perché i pompieri, il val di sole, 14 caserme di pompieri e in che sta costruendo una mezzana robe da narfordi camelide, robe da pane. Ma questa gente non vede in distanza, allora mi avevano insegnato che quando si fa un'operazione economica, mi pare che ne abbiamo parlato, il bravo manager non è quello che vede le cose di oggi, è quello che vede le cose lontane, cioè fa un'operazione economica, mette in piedi un'azienda, fabbrica una certa macchina, ma deve pensare che quella macchina non deve servire per oggi, deve fare dei calcoli, quella macchina servirà per 20 anni e che dietro strada sarà modificata e deve fare tutto un programma di lunga distanza, non può fare di piccola distanza. Allora, questi signori pompieri bisogna che facciano un esame a lunga distanza. Usque tandem, diceva, fino a quando si potrà abusare della pazienza economica, perché questo è il punto, quando ci saranno da rinnovare certe macchine che ci sono nelle 14, ci saranno i soldi per rinnovarle? Ci saranno i soldi per fare le riparazioni? Gli accomperà le scale lunghe che arriva in cima quando adesso sembra che quelle scale lì non le servano più perché ci sono gli elevatori. Con l'elevatore si fa molto prima, è molto più sicuro, si arriva molto in alto, molto meglio che con la scala. Certi sistemi per spegnere gli incendi stanno via via cambiando, ci sono dei sistemi che sono diversi da quelli che c'erano 30 anni fa o 20 anni fa. Ed è pensabile che adesso mi facciano la fusione del comune di Di Maro col comune di Monclassico e mettergli in piedi le due caserme dei popieri. Ah, mi l'avrebbe non? Va bene. Però, però, il famoso popolo che ho citato l'altro giorno, i famosi operai a cui andiamo a prendere nella busta paga, prima ancora che prendano lo stipendio in mano, questa è la tragedia, gli vengono prelevati i soldi delle tasse, mentre gli imprenditori, tutta un'altra categoria di persone, le tasse le possono pagare dopo e magari anche evadendo. L'operaio non può farlo, tutta la classe dipendente, i soldi delle tasse li vengono trattenuti ancora prima di prendere i soldi della busta paga. Allora o sono soldi sacri? Questo che dico io. Allora adesso la provincia autonoma che parla tanto di autonomia deve dare una dimostrazione che l'autonomia significa anche risparmiare, essere accurati, essere persone serie e non gente che prende i soldi dei lavoratori e poi gli d'opera per fare le caserme dei pompieri per prendere voti. Perché non le dite queste cose? Perché non avete il coraggio di dire che avete messo insieme le caserme dei pompieri perché i 30 pompieri sono 30 familiari, 30 nonni, 30 zii, 30 cugini e dove sto passo? Perché non lo dite? È una vergogna! È una vergogna! Allora siccome questi assessori quando fanno gli assessori non hanno una responsabilità economica. Allora facciamo un esempio. Voi prendete il manager di una ditta, ne è responsabile in proprio ragazzi, non state mica a credere, è vero che già fa una barca dei soldi ma se succede qualche cosa pagano in proprio eh! Questi assessori vanno su, fanno gli assessori, fanno delle, permettete il termine, cazzate tra virgolette, grande in a casa e non rispondono. Eh! È l'assessore! L'assessore va via e va via! No, cari signori, massa comoda! Troppo comoda! Dovete essere responsabili anche in proprio! A un certo momento quell'assessore lì lo tiro dentro per i capelli, gli porto via la sostanza e io, se si è permesso di adoperare i soldi degli operai che sono sacri in una maniera indegna! E cosa volete? Io ormai mi sono rassegnato, sapete, mi sono rassegnato perché, non so, per fortuna che go, l'età che go, perché se no qualche volta mi domando se non sarei anche, eh, non so, vedete, parlando con dei miei amici l'altro giorno, si sono un po' meravigliati perché il sottoscritto è sempre stato un vecchio liberale, sono stato con i naudi e ho sempre sostenuto le privatizzazioni da sempre e ho sempre sostenuto che i bilanci devono quadrare, che non si può andare in deficit, cioè i bilanci devono quadrare. E allora qualche volta, probabilmente come fenomeno di arteriosclerosi, mi viene in mente la Corea del Nord, la Corea del Nord, e qualche volta mi domando, ma non sarebbe il caso per un periodo di tempo, un po' di Corea del Nord, che così tutta sta gente capirebbe che cosa vuol dire lavorare, risparmiare, fare sacrifici e non andare a fare politica solamente perché alla fine del mese ci appa i soldi e non siete capaci di proporre nulla. Basta, per oggi basta.